la scarsa incisività di questo provvedimento, richiamando al fatto che la declinazione del metodo democratico non avrebbe quella cogenza e quelle declinazioni alle quali anche l'onorevole Zaccagnini faceva riferimento. Colleghi, un secondo, che cosa succede? Colleghi, chiederei a tutti di non voltare le spalle alla Presidenza. Dispiace un po', Presidente, che i lavori di quest'Aula siano sottoposti ad un maggiore interesse da parte dell'opinione pubblica, che sta scrivendo cose molto belle e interessanti sui nostri lavori e non da noi stessi in prima battuta, perché devo dire che questa discussione, con tutti i limiti, le fragilità che può avere, è una discussione che ha elementi di portata, non voglio dire storica, ma di grande rilevanza, per cui spero che nel proseguo possano essere colti. Ma facevo riferimento all'applicazione e al riferimento al metodo democratico. Le istituzioni non cominciano con la nostra presenza in quest'Aula, il corso della loro storia e della loro vita. Le istituzioni hanno un prima e dopo di noi. Se nell'anno 1999 Leopoldo Elia presenta un progetto di legge costituzionale per attuare l'articolo 49 e per dare una definizione di metodo democratico rivolto all'interno dei partiti ci sarà una motivazione. Probabilmente con legge ordinaria si può regolamentare la vita dei partiti come stiamo facendo, fermandoci però all'interpretazione costituzionale che è stata data da tempo...